A prensione e paura questa mattina a Taranto un'auto si è ribaltata sul ponte girevole. Cambio al vertice del comando provinciale dei vigili del fuoco della città abimare. L'ingegner Lorenzo Elia subentra all'ingegner Giuseppe Merendino. Maggioranza rafforzata nei numeri a Taranto dopo il mini rimpasto. Nessun problema per l'approvazione del bilancio consolidato. Ben ritrovati nuovamente in diretta. Il momento dell'informazione dedicata a Taranto e provincia. Momenti di paura questa mattina a Taranto sul ponte girevole dove un'auto si è ribaltata sulla carreggiata. Un'auto si è ribaltata sulla carreggiata nella mattinata di martedì 1 ottobre a Taranto sul ponte girevole della città abimare. L'auto probabilmente era seguita da una volante della polizia di Stato. Si sono vissuti dunque momenti di apprensione e di paura per i passeggeri e i numerosi pedoni che transitavano su quel tratto di strada. Secondo le prime indiscrezioni all'interno del veicolo una Mercedes erano presenti due persone rimaste fortunatamente illese. Sul luogo dell'incidente oltre agli uomini della polizia di Stato sono arrivate le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'intera area. Il traffico è stato bloccato per circa due ore. La polizia di Stato a seguito di articolate e complesse investigazioni coordinate dalla DDA di Lecce, protrattesi per più tempo in coordinamento con la procura dei minori di Taranto, ha arrestato un 17enne ritenuto presunto responsabile del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Il personale della DIGOS, coadiuvato da investigatori della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha proceduto all'esecuzione del decreto di perquisizione contestuale sequestro emesso dalla DDA di Lecce nei confronti di due cittadini residenti a Taranto, genitori del 17enne. Una donazione importante per la città di Taranto nelle mani in una cerimonia ufficiale del sindaco Rinaldo Melucci. Con lo scoprimento ufficiale del buzzetto, la consegna della maquette nelle mani del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e la firma della pergamena, si è svolta la cerimonia ufficiale di donazione alla città di mare da parte del professor Mario Guadagnolo della maquette per la costruzione del monumento a Giovanni Paesiello, dello scultore Nino Franchina. Giornata importante di festa ma anche di memoria. Devo dire che si chiude, lo raccontavamo, nelle primissime battute della presentazione di quello che è un accordo importante di grande generosità da parte di Mario Guadagnolo, già sindaco di Taranto, della donazione del bozzetto del celebre Franchina di un monumento, come sapete, che con una storia travagliata era sicuramente dedicato alla figura di Paesiello e che vogliamo recuperare, in qualche modo rilanciare per il futuro di questa città in qualche luogo iconico con iniziative insomma importanti. Un momento per ricordare un po' il destino di questa città, la quale da sempre impongono scelte dall'alto in momenti roccamboleschi e che invece si riappropria della propria identità, della propria vocazione in tema di arte contemporanea e si riappropria, come dire, di alcuni elementi veramente importanti della sua storia moderna. La cerimonia si è svolta nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città e la maquette sarà collocata stabilmente nella Biblioteca Clavio di Taranto in un apposito spazio. Cambio al vertice questa mattina al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, l'ingegner Lorenzo Elia subentra all'ingegner Giuseppe Merendino. Il suono delle sirene come saluto e buon augurio. Passaggio di consegna al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto. L'ingegner Lorenzo Elia, appena promosso dirigente superiore, ha assunto l'incarico di comandante dopo anni vissuti alla sala operativa del Viminale. Sostituisce l'ingegner Giuseppe Merendino che si trasferisce a sua volta a Roma per entrare nell'ufficio di staff del capo del Corpo dei Vigili. Al cambio di comando hanno partecipato il prefetto Paola De Sì e i vertici della Polizia e delle massime autorità militari del territorio. Per Elia, brindisino di nascita, si tratta del primo comando della carriera, un momento vissuto con orgoglio ed emozione. L'emozione principale è quella di tornare a lavorare sul territorio dopo aver svolto l'incarico presso il Centro Operativo Nazionale. Adesso torno sul territorio dove chi deve essere supportato sono i cittadini, le amministrazioni e chi ne avesse bisogno. Taranto resterà nel mio cuore, ha sottolineato il comandante uscente Merendino che ha rimarcato come nel corso della sua gestione sia stato rafforzato fortemente. Sia il parco mezzi che il personale a disposizione, altri Vigili del Fuoco arriveranno a breve con profili specialistici. È stato un anno complesso tra G7 e il grave incendio di Lido Silvana, ma il corpo dei Vigili del Fuoco di Taranto ha adempiuto a tutti i compiti con impegno e abnegazione ed è pronto ad affrontare le prossime sfide. È stato un anno fondamentale per la mia carriera e devo ringraziare tutto il personale dei Vigili del Fuoco, del comando di Taranto per l'approccio che hanno avuto con me. Mi hanno messo a disposizione di poter lavorare con tranquillità. Una serie di incontri per discutere del futuro turistico di Taranto. Quale turismo per Taranto risposte a questa domanda durante il ciclo di incontri organizzato nel centro San Gaetano in Città Vecchia da Lega Ambiente e Circolo di Taranto APS con la collaborazione di Confcommercio Taranto nell'ambito del progetto L'Isola che Accoglie, sostenuto dalla Fondazione Conil Sud. Per noi che siamo Lega Ambiente, che siamo un'associazione ambientalista, il turismo è una possibilità importante per diversificare l'economia del nostro territorio, ma va visto in un'ottica appunto di sostenibilità. Quindi la Carta Europea del Turismo Sostenibile parte dai parchi e da tutte le opportunità che ad essi sono legate. Un percorso formativo per un turismo sostenibile con cui si intende proporre agli operatori turistici di Taranto a partire proprio da quelli già attivi in Città Vecchia a soggetti residenti nella stessa città e più in generale tutti coloro che vogliono intraprendere attività turistiche, modelli di accoglienza sostenibile in grado di coniugare la tutela del patrimonio ambientale e culturale della città bimare con l'erogazione di nuovi servizi turistici, dall'accoglienza alla fruizione della città a partire dalla sua parte più antica, dal Museo Archeologico ai siti storico-culturali disseminati nel perimetro urbano, dai servizi innovativi di conoscenza del mare, alle fortezze militari che presidiano il Golfo, dalla ristorazione alle produzioni locali di qualità. Maggioranza rafforzata nei numeri a Taranto dopo il mini-rimpasto, nessun problema per l'approvazione del bilancio consolidato. 18 più il sindaco Melucci, buona la prima per la maggioranza allargata al comune di Taranto, sorta dopo il mini-rimpasto d'inizio autunno. Con l'ingresso ufficiale di Mario Dona e per il momento nel gruppo misto ed ex 5 Stelle, i numeri in Consiglio Comunale della coalizione di governo si sono ulteriormente consolidati. Nella votazione più importante, quella relativa al bilancio consolidato, i sì sono stati 19 in o 9, mentre il presidente del Consiglio Abitetti si è assenuto. Navigazione tranquilla dunque per Melucci. Odone, oltre ad aver ricevuto dal sindaco una delega per la sostenibilità energetica, è stato eletto anche la guida della commissione bilancio al posto della dimissionaria Bosniacu. Io ho pensato di impegnarmi su alcuni temi. Il sindaco mi ha conferito proprio nei giorni scorsi una delega strategica rispetto alla sostenibilità energetica, approfondiremo questi argomenti, ci sarà prossimamente la costituzione di una nuova partecipata, la Chima Energia, quindi è un tema che è importante per la città. Dall'opposizione si è levata forte, tra gli altri la voce di Liviano del misto di opposizione. Per quest'ultimo il bilancio approvato non è attendibile a causa del conferimento tra le poste attive del termovalorizzatore fermo da anni. Il bilancio dell'Amiu gode di questo valore contabile di 41.800.000 euro nell'attivo, ma non c'è nessuna posta che riduca, nessun ammortamento, quindi nessuna posta che riduca il suo valore negli anni. Questo nonostante il termovalorizzatore sia fermo, bloccato, inutilizzato dal 2013. Può essere mai che una cosa che non funzionava nel 2013 possa funzionare nel 2024 senza che sia stata apportata nessuna modifica, nessun miglioramento? Evidentemente no. Intanto sulla nuova miniserie televisiva dedicata al delitto di Sara Scazzi, a vetrana qui non è Hollywood, i cittadini si indignano. Ascoltiamo le loro reazioni. È un capitolo chiuso tanti anni fa. Ci ha fatto male a tutta la cittadinanza. Non ce ne parla più, basta. Siamo esauci. In piazza Vittorio Veneto i cittadini che avviciniamo sono scontrosi, ripudiano i riflettori, addirittura qualcuno vuole cacciarci. Ad Avetrana sono in molti gli abitanti che rifiutano di parlare ancora una volta dell'omicidio di Sara Scazzi. La quindicenne uccisa dai suoi parenti, 14 anni fa. Una storia agghiacciante che il paese vuole dimenticare. Ma la ferita è già stata riaperta lo scorso febbraio quando Michele Misseri, lo zio di Sara, è tornato nella propria villa, quella dell'orrore e dell'ossessione televisiva, mentre moglie e figlia stanno scontando l'ergastolo. Ci sono ancora i teli verdi che coprono la visuale della casa che sembra disabitata. Anche il nome del citofono è stato cancellato. Via dell'Edda è silenziosa, ma conserva un fascino che farà brividire. Sul marciapiede, un contenitore di plastica con dell'acqua e una colonia di gatti. Uno di loro, nero, sbuca dalla villa Misseri richiamato dall'altro felino. Sono come i sentinelle, protettori della casa del padrone, che guardano con sfida come senti Massero ad andare via. E la sensazione è questa ed è pervasa in tutta la città. Avetrana vuole voltare pagina, ma è impossibile, ancora una volta, rimettere in moto l'assalto mediatico e l'ultimo prodotto TV sul delitto Scazzi, una miniserie realizzata da un colosso cinematografico. Avetrana, qui non è Hollywood, il titolo, con il nome della città sbattuto sui manifesti, che ha indignato il sindaco Giazzi e i cittadini di ogni età. Non la vedrò perché comunque fa male, perché io non penso di vedere quello che è successo ad Avetrana, io penso alle sorti di una povera ragazza di 15 anni uccise in quel modo. Ci sembra una cosa irrispettosa, però comunque anche il vederlo per capire, comunque noi conosciamo la storia dal punto di vista del nostro paese, anche per sapere che tipo di lavoro hanno fatto e se le nostre opinioni sono giuste. vogliamo sapere come hanno dipinto il paese perché ciò che ci interessa è che il paese non venga dipinto soltanto in considerazione del delitto perché il paese è tutt'altro in realtà. Della serie se ne discute anche tra i banchi di scuola, tra gli studenti che non hanno vissuto direttamente quel periodo ma che vogliono scoprire, conoscere il passato per guardare avanti al futuro ad un'altra vetrana. E da Crespiano è stata presentata la stagione teatrale della Compagnia Il Velario. si parte domenica 6 ottobre e l'ultimo appuntamento il 19 dicembre. L'autunno crispianese si tinge di cultura e di spettacolo e lo fa con la rassegna teatrale Sipario del Giovedì promossa dall'Associazione Culturale Compagnia del Velario di Crespiano. Quest'anno la rassegna si propone di coinvolgere un pubblico sempre più ampio offrendo appuntamenti non solo nel weekend ma anche durante la settimana per favorire una fruizione più diffusa del teatro quattro serate a partire dal 6 di ottobre per immergersi nel mondo della recitazione e della cultura. La Compagnia Il Velario da sempre impegnata nella diffusione della cultura teatrale ha selezionato compagnie di assoluto valore provenienti da tutta la Puglia da Gravina di Puglia a Tuglie passando per San Vito dei Normanni e Martina Franca un'occasione unica per scoprire le diverse realtà teatrali regionali e valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio. Si parte domenica 6 ottobre con la commedia E tu chi sei? Giovedì 24 ottobre il vitalizio di Pirandello giovedì 21 gioco al massacro per chiudere il 19 di dicembre con la commedia posso spiegare tutto. È una bella avventura che riproponiamo come compagnia del velario ormai da 18 anni quest'anno la rassegna diventa maggiorene vogliamo che gli utenti e gli spettatori possano frequentare il teatro non solo nel fine settimana però tutti gli altri giorni in modo da avere una programmazione continuativa. Ed è tutto termina qui il TGI dedicato a Taranto e Provincia ci fermiamo per qualche istante tra poco. Non solo degrado e saccheggi nel parco di Giulio di Brindisi l'ex polmone verde della città ormai completamente al buio dopo l'ultimo ride vandalico la sera diventa teatro di scorribande di motorini distrutti tutti i vialetti esasperati residenti. Resta avvolta nel mistero la dinamica di quanto accaduto in un appartamento del centro abitato di Francavilla Fontana dove domenica pomeriggio un 45enne del posto è stato ferito da un colpo di pistola ancora irreperibile un 35enne ricercato dai carabinieri che risulta evaso. Il SIAP sindacato italiano appartenenti polizia continua a promuovere l'apertura di un nuovo commissariato a San Pietro Bernotico sarebbe fondamentale dice il segretario Cosimo Sorino per tutto il territorio. Ben ritrovati al momento dell'informazione dedicata a Brindisi e Provincia il Parco di Giulio in primo piano non solo degrado e saccheggi l'ex polmone verde della città ormai completamente al buio dopo l'ultimo raid vandalico la sera diventa teatro di scorribande di motorini distrutti dunque tutti i vialetti ed esasperati i residenti. Motorini che scorazzano tra i vialetti in un parco non solo devastato ma da qualche giorno anche completamente al buio per effetto dell'ultimo raid notturno con furto di tutti i cavi di rame del nuovissimo impianto di illuminazione inaugurato recentemente dall'amministrazione comunale immagini che fanno male molto male ragazzi che scambiano i vialetti di quello che era il fiore all'occhiello della città premiato a livello nazionale tra i parchi più belli d'Italia per piste dove correre il Parco di Giulio o quello che ne resta continua a essere preda di vandali e sconsiderati e nessuno muove un dito sono sempre meno le mamme che portano i bambini qui a giocare un luogo divenuto più volte teatro di aggressioni ad opera di baby gang scambiato per dog park dai padroni di cani che portano qui i propri animali a fare i bisogni tra le rarissime piante e quel che resta dei prati ritrovo ormai usuale dispacciatori e tossicodipendenti come abbiamo documentato più volte di quel bellissimo polmone verde cittadino non è rimasto davvero nulla non un faretto non un muretto a secco ancora integro per non parlare dell'ex pizzeria devastata e saccheggiata a più riprese ora ci mancava il buio e le scorribande in moto non ci sono più notizie di servizi di guardiania o impianti di videosorveglianza restano tutte promesse mentre il di giulio diventa sempre più terra di nessuno ed intanto resta a volta nel mistero la dinamica di quanto accaduto in un appartamento del centro abitato di Francavilla Fontana dove domenica pomeriggio un 45enne del posto è stato ferito da un colpo di pistola ancora irreperibile un 35enne ricercato dai carabinieri nessun bossolo ritrovato nell'appartamento segno che il colpo ammesso che sia stato solo uno potrebbe essere partito da una pistola a tamburo ma anche nessun particolare indizio sulla dinamica di quanto è accaduto domenica pomeriggio in un appartamento di una palazzina di Vico Caro di centro abitato di Francavilla Fontana dove un pranzo tra amici e parenti è rischiato di trasformarsi in tragedia un uomo 45 anni invitato alla tavolata rimasto ferito a linguine ricoverato in ospedale fuori pericolo di vita un altro il padrone di casa 35enne impermesso è arrivato poche ore prima da una comunità di Bari dove è detenuto per presunti reati legati ad armi e droga irreperibile ormai da due giorni nessun segno neppure dell'arma utilizzata il mistero su quanto è accaduto è tutt'altro che svelato e i carabinieri del nucleo investigativo di Brindisi e della compagnia di Francavilla hanno il loro bel da fare nello sbrogliare la matassa di un caso che alla fine potrebbe rivelarsi anche un incidente domestico per quanto colorato dall'utilizzo di una pistola forse maneggiata incautamente chissà da chi chissà in che contesto fatto sta che il 35enne affittuario dell'appartamento dove si è tenuto l'ormai famigerato pranzo risulta ora evaso ed è cercato dagli investigatori dell'arma e in condizioni stabili invece il commensale ferito anche lui al momento non avrebbe saputo fornire dettagli utili nella ricostruzione di quel rocambolesco pranzo dove tutti hanno mangiato ma nessuno ha visto nulla ed è giunta nella fase conclusiva l'inchiesta sull'omicidio della 47enne Brindisina Irene Margherito uccisa dal cognato reo confesso Adamo Sardella è stata depositata la perizia sull'arma usata per il delitto la pistola funzionava perfettamente ed è quella utilizzata da Adamo Sardella Brindisino di 55 anni per uccidere la cognata Irene Margherito di 47 la perizia balistica affidata dalla procura agli esperti del gabinetto regionale di polizia scientifica fissa un altro tassello nell'inchiesta ormai giunta le fasi conclusive sull'omicidio avvenuto il 26 maggio scorso sulla complanare della statale 7 a metà strada tra Brindisi e Mesagne dalla pistola calibro 7.65 detenuta illegalmente da Sardella partirono tre colpi poi l'arma si sarebbe inceppata quando dopo aver ferito mortalmente la cognata seduta accanto al guidatore in una Nissan Juke avrebbe infilato la mano e la canna nell'abitacolo per uccidere anche il compagno di lei Franco Acquaviva le ipotesi di accusa formulate dalla PM Paola Palumbo sono di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e tentato omicidio oltre che detenzione e porto illegali di arma da fuoco prima della chiusura dell'inchiesta si attendono i risultati delle perizie sui telefonini sequestrati dai poliziotti del commissariato di Mesagne a tutti i protagonisti della vicenda compreso il figlio della vittima che ha accompagnato sul posto lo zio omicida e che ha sostenuto di non essere a conoscenza delle sue intenzioni e del fatto che fosse armato di pistola dalle ultime chat potrebbe venire fuori la verità una vicenda comunque complessa per la quale in corte d'assise non si dovranno solo determinare le responsabilità penali ma anche il reale movente di un delitto che al momento resta inspiegabile il SIAP sindacato italiano appartenenti polizia continua a promuovere l'apertura di un nuovo commissariato a San Pietro Vernotico sarebbe fondamentale dice il segretario Cosimo Sorino per tutto il territorio lo ritengono fondamentale per la città per chi ci vive per quella fascia di territorio tra le province di Brindisi e Lecce dove lo dice la cronaca degli ultimi due anni la cronaca delle ultime settimane sembra essere forte troppo forte la presenza della criminalità organizzata e non a San Pietro Vernotico serve un commissariato di polizia sarebbe questa ne sono certi i sindacati la risposta più forte e decisa da parte dello Stato attentati pestaggi incendi esplosioni e poi le operazioni targate di DDA il dibattito sull'apertura di un nuovo presidio in quella zona in quel centro resta attuale viene ancora una volta rilanciato noi come SIAP il sindacato italiano appartenente alla polizia di Stato stiamo spingendo per l'apertura di questo commissariato perché praticamente diventa fondamentale per quella fascia di territorio fra le province di Lecce e Brindisi che sia la procura di DDA di Lecce che le altre forze di polizia che esistono sul territorio stanno attenzionando in maniera particolare gli avvenimenti degli ultimi giorni fanno sì che ormai la criminalità ha lanciato la sfida allo Stato lo Stato non si può esimere e un presidio di polizia è fondamentale per quella fascia di territorio e per dare risposta a quei cittadini avrebbe una risposta giusta da parte dello Stato è la risposta giusta da parte dello Stato perché sicurezza significa lavoro e lavoro significa dignità e lavoro significa economia quindi dobbiamo combattere la criminalità organizzata su tutti i fronti sia dai banchi di scuola sulla cultura della legalità sia con una repressione forte di un apparato di sicurezza che noi abbiamo ma dobbiamo mettere in campo realizzazione dello Stato la Brindisi facciamo il punto con Davide Cucinelli torna a riunirsi la commissione lavori pubblici del comune di Brindisi per fare il punto sulla realizzazione dello Stato l'un'importante opera di collegamento dall'aeroporto del Salento allo snodo ferroviario che collegherà gli altri territori della provincia e della Puglia un tema importante che ha però portato alcuni ritardi nella realizzazione a causa di alcuni interventi di cambiamento della progettazione ma che potrebbe portare alla fine dell'opera entro il 2025 i ritardi intanto derivano dal fatto che in corso l'opera sono venuti fuori alcuni problemi che sono problemi importanti per quanto riguarda il territorio che siamo stati costretti a fare delle varianti al progetto e quindi questo rallentamento di fatto ha creato qualche problema che si è risolto man mano ed è ovvio che dei ritardi ci sono stati questo è un'opera credo molto importante per la città perché serve dall'ospedale Perrino si va direttamente all'aeroporto e quindi credo che questa opera che da diversi anni era messa in cantiere speriamo che entro il prossimo anno possa vedere la fine e quindi l'inaugurazione di un'opera del genere molto importante per la città nel momento in cui si mette in atto un'iniziativa del genere o una struttura del genere deve rendere conto anche di quella che è un'esigente della viabilità e su questo anche è stato uno dei motivi per i quali sono stati costretti ad operare delle varianti a questo progetto Una foglia sull'albero della memoria di Dublino dedicata a Melissa Bassi ma in cantiere c'è un'altra iniziativa C'è anche il nome di Melissa Bassi sulle foglie che sono appese all'albero della memoria installato nel 2014 nella cattedrale di San Patrizio a Dublino Si tratta di un'installazione in acciaio realizzata per commemorare in occasione del centenario della prima guerra mondiale le vittime di violenza tragedie atti di terrore all'albero spoglio ognuno può appendere un pensiero dedicato ad una persona speciale e così durante il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento il PCTO gli alunni del Morvillo Falcone hanno voluto rendere omaggio a Melissa Bassi inserendo una foglia con il suo nome un gesto simbolico per ricordare la giovane studentessa uccisa nell'attentato del 19 maggio 2012 ma il nome di Melissa sarà presente anche altrove Noi abbiamo attivato circa un anno e mezzo fa tutte le procedure per ottenere l'autorizzazione all'intitolazione della scuola a Melissa Bassi un nome che deve essere aggiunto e non sostituito a quello di Francesca Laura Morvillo Falcone e questo simbolicamente perché entrambe sono due vittime della violenza umana ed è giusto che vengano ricordate entrambe quindi siamo in attesa delle autorizzazioni necessarie per poter completare l'iter procedurale che poi porterà come ci auguriamo ad aggiungere il nome di Melissa Bassi a quello di Francesca Laura Morvillo Falcone Ed è tutto termina qui il Tg dedicato a Brindisi e Provincia ci fermiamo per qualche istante tra poco è stato rinviato a giudizio un 78enne accusato di aver abusato della nipote e della compagna quando la piccola trascorreva le vacanze estive in Salento sanzioni e sequestri scattati nei confronti dei titolari di un'attività commerciale al cui interno la guardia di finanza ha ritrovato una sala da gioco abusiva partono i primi quattro mesi per le piccole e medie imprese salentine tesi ad acquisire le necessarie competenze per affrontare i mercati internazionali ben ritrovati nuovamente in diretta il momento dell'informazione dedicata a Lecce Provincia è stato rinviato a giudizio un uomo accusato di aver abusato della nipote della compagna quando la piccola trascorreva le vacanze estive in Salento si aprirà il 2 dicembre dinanzi ai giudici della prima sezione penale del tribunale di Lecce in composizione collegiale il processo corrito ordinario nei confronti di un 78enne di Nardò accusato di violenza sessuale pluriaggravata sulla nipote della compagna all'epoca dei fatti di soli 10 anni e quanto ha deciso il giudice per le indagini preliminari Angelo Zizzari al termine dell'udienza preliminare accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal PM Luigi Mastroniani i fatti si sarebbero verificati tra il 2020 e il 2022 durante alcuni periodi di vacanza che la piccola vittima proveniente dalla Lombardia avrebbe trascorso in Salento ospite della nonna a far scattare l'allarme sono stati i genitori della bambina i quali dopo alcune confidenze della figlia circa gli atteggiamenti del compagno della nonna hanno provveduto a denunciarlo gli episodi di violenza sono stati poi confermati dalla vittima anche nel corso dell'incidente probatorio con ascolto protetto che si è tenuto dinanzi alla GIP Giulia Proto stando a quanto ricostruito durante le indagini gli abusi da parte del 78enne si sarebbero verificati nel pomeriggio quando la piccola si stendeva a letto per riposare o per guardare la televisione l'imputato difeso dall'avvocato Francesco Cazzato respinge tutte le accuse contestate la famiglia della bambina invece si è costituita parte civile nel processo con l'avvocata Monica Ghiggini un brutto voto un calo nel rendimento scolastico ed un comportamento irrispettoso questi i motivi che avrebbero scatenato la furia di una madre che nel 2019 avrebbe aggredito fisicamente l'insegnante di suo figlio durante un colloquio scuola-famiglia avrebbe aggredito la docente del figlio compugni durante un colloquio a scuola mentre la professoressa si lamentava del rendimento dell'alunno nei confronti del quale avrebbe espresso una valutazione negativa per questo motivo la mamma del ragazzo all'epoca dei fatti frequentante la scuola secondaria di primo grado di Castrignano del Capo è stata condannata dal tribunale di Lecce per lesioni personali la sentenza che ha disposto nei confronti dell'imputata il pagamento di una multa di 600 euro e quello delle spese processuali si pone in linea con quanto aveva deciso in precedenza il giudice di pace chiamato ad esprimersi sull'accaduto la vicenda si sarebbe verificata nel 2019 quando la donna si sarebbe presentata nella scuola media di Castrignano del Capo per i consueti colloqui con gli insegnanti del figlio dopo aver appreso dell'insufficiente rendimento scolastico di quest'ultimo la madre del ragazzo si sarebbe scagliata contro la docente di storia colpendola ripetutamente con pugni tanto da rendersi necessario il trasferimento in ospedale dell'insegnante per le cure del caso dovute alle contusioni riportate in seguito all'aggressione diffamazione calunni e maltrattamenti invece erano le accuse contestate alla docente da parte della mamma dell'ex alunno riguardo le quali il tribunale di Lecce si era già espresso archiviando il procedimento sanzioni e sequestre eseguiti dalla guardia di finanza nell'ambito di un piano coordinato di controlli finalizzato al contrasto del gioco illegale svolto nella provincia di Lecce i funzionari dell'agenzia Dogane Monopoli e i baschi verdi del gruppo della guardia di finanza di Lecce hanno scoperto e posto sotto sequestro una sala da gioco illegale situata all'interno di un esercizio commerciale di Squinsano se gli apparecchi da gioco risultati irregolari in quanto sprovvisti dei relativi titoli autorizzativi e non collegati alla rete telematica dello Stato rinvenuti nel locale dai finanzieri i quali hanno provveduto anche al sequestro del denaro contante contenuto all'interno delle macchinette da gioco per un valore complessivo di 1.600 euro con contestuale irrogazione di sanzioni amministrative del valore di circa 60.000 euro a questi provvedimenti si aggiunge anche un'ulteriore sanzione amministrativa disposta dai baschi verdi del valore di 30.000 euro in seguito alla scoperta di tre personal computer posti a disposizione di chiunque avesse accesso al locale collegati alla rete internet ed utilizzati per il gioco online l'evasione tributaria accertata tra prelievo unico e rariale imposta unica e pari a 1.314.000 euro oltre alle relative sanzioni tributarie di 2.838.240 euro calcolate in proporzione ai tributi avasi ad oltre un mese dalla pubblicazione del bando SGM ancora senza CDA e presidenza ed intanto i sindacati scrivono al prefetto i lavoratori non possono più attendere a più di un mese dall'apertura del bando per il rinnovo del consiglio di amministrazione della SGM aperto lo scorso 28 agosto con scadenza 11 settembre la situazione è ancora in stallo in queste ore i dipendenti e i sindacati hanno sollevato preoccupazioni merito a gravi irregolarità nelle attuali condizioni di lavoro e hanno già contattato il neoprofetto il quale ha fissato un incontro per il prossimo 8 ottobre i sindacati hanno atteso per settimane la nomina del nuovo presidente del CDA con i quali affrontare immediatamente le criticità ma ad oggi ancora nulla e da allora gli animi si scaldano poco più di un mese fa il comune di Lecce ha pubblicato due avvisi per la nomina dei nuovi rappresentanti della società in house SGM il bando prevedeva l'assegnazione di tre posti nel consiglio di amministrazione e cinque nel collegio sindacale di cui tre effettivi e due supplenti i nuovi saranno nominati per un mandato di tre anni con possibilità di rielezione nel bando hanno richieste competenze tecniche o amministrative adeguate in linea con le specifiche responsabilità delle cariche specificando inoltre che la selezione avrebbe tenuto conto delle esperienze professionali e delle qualifiche derivanti da percorsi di studio o da ruoli ricoperti in aziende pubbliche o private sono arrivati oltre 150 curricula di candidati ma non sono numeri questi che possono rappresentare una giustificazione al congelamento di una partecipata che rappresenta un nodo nevralgico per la città i sindacati riferiscono ad essere stati a parole rassicurati dall'amministrazione comunale di Lecce ma in descrizione li dicono pronti ad attendere una manciata di ore e non più per poi valutare lo stato di agitazione il sindaco di Lecce Adriana Polibortone convoca un tavolo il sindaco di Lecce Adriana Polibortone ha annunciato l'istituzione di un tavolo permanente che aveva il compito di fungere da collegamento tra il sistema di formazione scolastica universitaria e le esigenze del mercato del lavoro locale questa iniziativa nasce dalla necessità di creare un ponte tra la preparazione dei giovani e le opportunità professionali disponibili nella città con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della fuga dei cervelli è un tavolo nel quale avevo anticipato i contenuti durante la campagna elettorale a tutti i soggetti che questa sera sono stati invitati cioè non togli che ce ne possono essere anche altri che sono interessati all'argomento mi sono posto il problema di cosa far fare ai nostri giovani sul nostro territorio e quindi il tema dell'orientamento un orientamento che non può essere impartito se non viene concertato alla base con tutti quanti i soggetti che sono i soggetti principi della nostra economia l'iniziativa mira promuovere stage tirocini opportunità di lavoro per i giovani che decidono di rimanere a Lecce incentivando così un clima di crescita e sviluppo l'obiettivo è chiaro non solo fermare la fuga di cervelli ma anche attrarre nuovi talenti rendendo Lecce un polo attrattivo per giovani professionisti sono degli stage che si possono concertare anche con gli operatori proprio di ogni settore io penso all'area di sviluppo industriale dove mi hanno detto più di uno degli operatori mi ha detto che avrebbe bisogno di alcune figure professionali che purtroppo non riesce a trovare da noi allora se i giovani sanno che ci sono delle figure professionali che possono essere spese nella propria città nel proprio territorio ma io credo che può essere attrattivo per loro orientarsi verso quel tipo di professionalizzazione Ancora Lecce restiamo in comune ascoltiamo I presidenti degli ordini professionali di Lecce si sono riuniti in modo compatto esprimendo una richiesta unanime e decisa la revoca della delibera approvata dal Comune di Lecce che prevede la creazione di una short list dei professionisti da coinvolgere a costo zero per collaborazioni con l'attività amministrativa la questione è stata al centro di un incontro convocato dal presidente della commissione controllo Tony De Matteis tutti gli ordini sono fermi sulla richiesta della regola del provvedimento come detto in commissione la nostra non è una battaglia politica non è una battaglia di parte ma è una battaglia di merito in questo caso suppongo e spero che venga ritirata quanto prima questa delibera per poi cominciare a parlare con le professioni per capire quali sono le esigenze dell'amministrazione e insieme fare un percorso la polemica si è accesa attorno a questa delibera che viene considerata da molti come un passo inadeguato e potenzialmente dannoso per i professionisti del territorio i presidenti hanno sollevato preoccupazioni riguardo la sostenibilità di un approccio che non prevede un compenso per i professionisti coinvolti sottolineando l'importanza del riconoscimento del loro lavoro la creazione di una short list senza alcun costo per le collaborazioni potrebbe quindi compromettere la qualità delle prestazioni professionali e la dignità degli stessi professionisti i rappresentanti degli ordini hanno quindi chiesto un confronto aperto con l'amministrazione comunale per discutere le alternative più giuste e sostenibili provvedimento che per certi versi ho usato proprio questo termine mortifica quelle che sono le legittime aspettative del professionista intellettuale ma in realtà di qualunque lavoratore che presti la propria attività e che da quell'attività debba trarre il sostentamento per sé e per la propria famiglia quindi credo che sia un provvedimento che vada revocato vada rimeditata questa collaborazione che tutti gli ordini professionali offrono alla città e alla collettività ma certamente la forma individuata all'interno del provvedimento del quale oggi abbiamo discusso mi sembra assolutamente censurabile e non condivisibile oltre che a nostro avviso contraria anche ai principi espressi nella legge sull'eco compenso partono i primi quattro mesi per le piccole e medie imprese salentine quattro corsi tesi ad acquisire le necessarie competenze per affrontare i mercati internazionali ben quattro corsi di formazione gratuiti per imprenditori iscritti alla Camera di Commercio di Lecce e i loro dipendenti ciascun corso sarà atteso ad acquisire competenze utili ad affrontare i mercati internazionali i primi due partiranno il 15 ottobre mentre il terzo si terrà il 24 per poi finire con l'ultimo lunedì 28 ottobre a metà ottobre CODAS sta avviando questi quattro corsi di formazione che sono rivolti ad imprenditori iscritti alla Camera di Commercio di Lecce e l'obiettivo è quello di formarli per approcciarsi in modo consapevole ai mercati esteri i corsi saranno di contenuti a 360 gradi cioè la formazione sul marketing digitale marketing estero protezione del brand quindi marchi e brevetti e lo sviluppo delle piattaforme commerciali digitali nonché un'analisi approfondita di quelli che sono i marketplace principali come Alibaba ed Amazon Siamo convinti che si faccia crescita aziendale e espansione delle piccole e medie imprese e degli esercizi vicinato anche studiando informandosi e cercando di portare all'interno dell'azienda quelle innovazioni tecnologiche che possono far conquistare le piccole e medie imprese nuovi settori e nuovi mercati di sborco al di là di quello salentino Noi di PM Italia inizieremo il 15 ottobre qui in questa sede di via Mazzarella 15 Sono corsi importanti perché riguardano l'internazionalizzazione quindi parleremo dei marketplace dei mercati ma anche delle piattaforme digitali dove si può commercializzare e parleremo alle aziende che già hanno iniziato un pochino a vendere all'estero ma hanno bisogno di consulenze e approfondimenti e anche a quelle aziende che vorrebbero ma ancora non osano o comunque non sono andate a dove iniziare Ed è tutto termina qui il TG dedicato a Lecce Provincia grazie per averci scelto per averci seguito a tutti voi un buon proseguimento di giornata Rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo di Puglia di Puglia Grazie a tutti.